Il Maestro e Margherita è un romanzo incredibile da tanti punti di vista, è un abito vario pinto e credo che abbia colpito così tante generazioni proprio perché è inafferrabile sostanzialmente, è un romanzo che è impossibile quasi da raccontare. La cosa che maggiormente a me ha colpito sembra parlare del veleno che entra nei rapporti interpersonali in una società e mette a suo quadro quello che fino al momento prima sembrava ordinato, in ordine e quindi parla della cauticità, del caos fondamentalmente, dell'impossibilità di costringere l'amore, la politica, l'uomo dentro una forma chiusa e quindi il personaggio di Voland è un personaggio portatore di complessità in una società, in una comunità che in qualche maniera, come dice Voland, ha perso il senso della complessità e Voland è il personaggio che invece immette proprio il veleno dentro questa società, come Margherita, come il maestro, soprattutto Margherita immettono attraverso l'amore, mettono a suo quadro le proprie esistenze. È un romanzo che parla di desiderio poi fondamentalmente, del desiderio di Voland, del desiderio di Margherita nei confronti del maestro, del desiderio di maestro, del maestro di rinchiudersi. Quindi il lavoro fatto è stato quello di cercare di rendere attraverso gli strumenti che il teatro ti dà, che sono gli strumenti dell'artificio e della semplicità paradossalmente le fantastiche e paradossali pagine che Bulgakov ci ha restituito, in tutto il suo splendore, in tutta la sua potenza. Grazie a tutti!